Buonasera, sono Antonio De Paolo, sono quello che dal primo momento ha pensato e realizzato questo Italy, un Italy dedicato ai venti, non poteva essere diversamente visto che siamo nella città della Bora per cui ci è sembrato la cosa più naturale poterlo dedicare ai venti. Ci ha aiutato il 17 gennaio del 2017, il giorno dell'inaugurazione, la Bora ci ha fatto questo grande regalo, qua fuori c'è la Bora a 120 km all'ora, per cui è stato proprio come un grandissimo regalo che è arrivato dall'alto e ha voluto ringraziarci proprio il fatto di aver dedicato a lei questo Italy meraviglioso. Sono passati cinque anni, è stato un continuo e costante successo, questo store è diventato per la città un luogo di destinazione, un luogo di destinazione per i criestini, un luogo di destinazione per tutti i turisti che arrivano in questa città, che lo vogliono vedere, ammirare, venire a provare le nostre eccellenze. Ci sono tre parole che riassumono in Italy, che sono quello di mangiare, imparare e comprare. Poi sarà lei declinarle in inglese e farle capire meglio. Sicuramente saremo qui ancora per tanti tanti anni con la consapevolezza di regalare tantissime cose belle a chi ci viene a visitare.